Tu? Via! Carissime socie, carissimi soci, buon pomeriggio a tutti, ci troviamo in questo magnifico esempio di architettura romanica ad Agliate, fazione di Caratebrianza. Siamo qui per far entrare un nuovo socio e vi presento l'ingegner Roberto Rovelli, il quale è stato ritenuto meritevole di poter entrare a far parte del Lions Club Caratebrianza Cavalieri e ha assunto anche la disponibilità, essendo un ingegnere chimico, ad occuparsi del dato ambientale per cui vogliamo affidare a lui il satellite per far crescere questo nostro sodalizio anche e soprattutto in ambito ambientale. Per cui per noi intanto è una gioia di poter essere in un ambiente così bello della nostra Brianza e poter condividere la gioia dell'ingresso del nuovo socio in uno dei capolavori più eccelsi dell'architettura e dell'arte mondiale. Entrando a far parte dell'IOS Club di Caratebrianza, sezione satellite Cavalieri dell'Ambiente mi impegno solennemente a rispettare lo statuto del regolamento del club e di quelli dell'associazione internazionale dell'IOS Club e a partecipare a tutte le riunioni. Ringrazio il Cavalier Alessio per la fiducia riposta nei miei confronti, vedrò di fare il mio meglio. Grazie allora di questa fiducia. Adesso a me in qualità oltre che di officer distrettuale alla cultura e di presidente, essendo io il tuo sponsor così vogliono perché altrimenti ti sembra qualcosa al paggino, no? Paggino. Ecco, evitiamo. Quindi ti apporrò questa pin perché sei stato ritenuto meritevole di entrare a far parte dell'IOS Club Caratebrianza Cavalieri. Premetto però che l'amico Roberto, oltre a essere il papà di un nostro socio, è già amico di lunga data perché ha partecipato a tantissime delle attività pregresse, spero future, con la stessa energia e entusiasmo che lo ha contraddistinto. E grazie. Adesso iniziamo con l'apporti il distintivo, il socio, questa bella giacca piquet, per cui te la vado proprio a non sull'occhiello perché sennò è difficile oramai, ora che ha preso qualche prudimento. Grazie. Grazie perché Roberto è veramente una colonna portante. No, assolutamente. Grazie. Credo di fare il mio meglio con voi. Certo. E di darmi da farlo. Che dire? Grazie. Qui servo. Grazie. Qui servo. Giustamente dice il segretario storico che è Chiara, a cui a breve cederà il passo a qualcun altro. Certo. Grazie Chiara. Grazie e un'ultima cosa perché abbiamo il kit. Quello raccoglimento. Il kit prevede, vedi, abbiamo tutto. Dentro c'è anche qualche gadget, la penna, te l'avevo già fatta vedere, coccanzi. E questo è il certificato di affiliazione, per cui come il figliolo aveva incorniciato quello del centennale, adesso tu hai questo dell'anno in corso. E grazie. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie. Benvenuto. Benvenuto.